Non ho parole per dire come è l'atmosfera durante questa manifestazione a Mantua. La città di Mantua è meravigliosa e vedere come questi gruppi delle diverse città sono presenti e collaborano insieme. Il tutto è meraviglioso. Vorrei esprimere un grazie all'amministrazione comunale di Mantua, alla persona del sindaco, degli organizzatori per questa splendida manifestazione. Direi che questa manifestazione ancora una volta dimostra che arte, cultura e soprattutto riescono a cementare e collegare i popoli al di là della lingua, al di là di tradizione e al di là di nazionalità. Quindi un grazie ancora per questa bellissima manifestazione. Penso che la città è veramente bellissima e la nostra città ha solo 300 anni di storia, ma questa città è veramente antica e credo che ha 1000 anni di storia. Il Mantua e il Festival di Friends è un evento che non è stato un evento che ho mai visto. È stato per me un evento unico, è stata una grande opportunità per lasciare rapporti di amicizia e una grande occasione per visitare una città antica, per me unica, e anche una buona occasione per fare dello shopping. Siamo cominciati bene e abbiamo comprato bene. È stato fantastico.